Nuove disposizioni per le cerimonie religiose nelle chiese di tutto il territorio regionale. Dopo che il Ministero degli Interni ha indicato che nelle strutture parrocchiali il distanziamento può essere superato per i congiunti e il coro può ritornare ad esibirsi ad ogni celebrazione con tutti i dovuti distanziamenti, ieri il Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ha sottoscritto un decreto che ridetermina il numero massimo dei partecipanti alle cerimonie religiose da 200 a 350, tenendo sempre conto della distanza minima di sicurezza pari ad almeno un metro. La Chiesa, come tutte le realtà, si sta muovendo tra prudenza ma anche osare. Quindi dopo un'estate in cui abbiamo anche fatto attività con gli oratori, grazie anche agli aiuti economici della Regione e a tanti educatori, riprendiamo le attività. E recentissimamente anche il Presidente della Regione Marche, Ceriscioli, ha sottolineato che da 200 passano a 350 le persone che possono essere presenti nell'aula assembleare. Questo numero per noi è grandissimo perché noi abbiamo solo la concatedrale di Cagli che magari può superare un certo numero. Tutte le altre chiese, come anche le nostre piccole chiese, sono relativamente più basse rispetto a questo numero. A questo si aggiunge anche una lettera del Vescovo Armando Trasarti, che incentra il ritorno alla vita ecclesiale nelle comunità, attraverso anche la celebrazione dei sacramenti. La celebrazione dei sacramenti che sono stati sospesi fino a questa data di settembre-ottobre e che adesso un po' alla volta riprendono. Le parrocchie stanno organizzandosi per esempio per far partecipare i bambini alla messa di prima comunione con piccoli gruppi e già questo sta avvenendo. La domenica nella messa della comunità, come anche la Cresima. Il Vescovo sta sfruttando anche quella della Cresima come un'occasione per visitare le comunità. E anche la Cresima, chi può farla all'aperto, chi è al chiuso, certamente rispettando numeri, indicazioni. Ecco, la cosa che ci sembra importante è che questi ragazzi, questi giovani che vivono nel 2020 e 2021, perché la situazione sta evolvendo, non possono vedere questi anni sfumare perché non possono uscire, devono tenere la mascherina eccetera. Occorre che li aiutiamo a vivere questo tempo in pienezza, quindi non far perdere il senso della festa e non far perdere il senso anche della comunità, che crediamo sia la cosa più importante. Quindi ecco, ci stiamo muovendo in questo modo. Certamente la scuola che inizierà il 14 settembre sarà una cartina al tornasolo importante perché i ragazzi ricominceranno e noi ci metteremo anche sulla scia di quanto sta avvenendo, tenendo conto che i nostri locali sono sempre molto limitati. Però la comunità, vedo che nelle parrocchie e le comunità cristiane si stanno tutte adattando e adeguando a questa prudenza e a questo osare.